Oggi a Vinitali Giaco 2010 siamo con il signore Dimitri Pinter per l'azienda Villa Udini. Buongiorno, vuole dirci qualche parola relativamente alla sua azienda? Sì, noi, nostra azienda del Friuli, di Cilidale, per la precisione, produciamo vini da oltre 200 anni. Come azienda siamo specializzati sui vitigni autoctoni che del Friuli, come tutta l'Italia, è ben ricco e, per fortuna, adesso vengono molto apprezzati qui all'estero anche. Sono il Friuli, di Villa Rubini. Sì, è un paese di Cilidale, di Cilidale, di 200 anni. Abbiamo usato un prodotto di prodotti di cilidale, e sono molto piaciuto in giro. Quali sono, signor Dimitri, le sue aspettative della roma internazionale? Noi attualmente non siamo presenti sul mercato giapponese, né sul mercato asiatico. Sull'onda del successo che stiamo avendo nei mercati esteri, nordamericani, in particolare sui vitigni autoctoni, stiamo cercando di proporci adesso al mercato asiatico, partendo proprio qui dal Giappone, in questa occasione che è il Vini Italy. In particolare stiamo presentando tre vitigni, la ribolla gialla, spumante, il Pignolo, che è un gran vitigno molto raro, il Friuli. E lo Schiopettino, che è un po' il vitigno che rappresenta di più il nostro territorio e che viene molto apprezzato in queste degustazioni, in quanto per la sua morbidezza si sposa bene anche con la cucina asiatica. Grazie. Grazie. Grazie.